Ciao ragazzi, benvenuti su Stranezze nel Calcio 6, terza stagione. Prima di iniziare vi ricordo che Stranezze nel Calcio 7 uscirà venerdì 22 febbraio sempre alle ore 14. Ma ora iniziamo subito. Sigla! Durante il match del torneo federale argentino tra la Juventus Unida e il Defensores de Belgrano è successo un qualcosa di incredibile. Come vedete l'attaccante della squadra di casa era riuscita a beffare il portiere avversario stoppandogli il rinvio. L'attaccante quindi la colpisce di piatto, la palla rotola verso la linea, ma no. Quella palla non entrerà mai. Scopriamo insieme il motivo. Esatto, la palla è stata salvata sulla linea da un cane. Non chiedetemi cosa ci facesse un cane in campo, che non lo so. Parliamo adesso di Champions League, nello specifico di due record rimasti ancora imbattuti. Il giocatore più giovane ad aver debuttato in questa competizione è Celestin Babagliaro, difensore dell'Underlecht che il 24 novembre 1994 giocò la partita contro l'Osteau a Bucharest all'età di 16 anni e 87 giorni. Il giocatore più anziano invece ad aver giocato in questa competizione è una nostra conoscenza. Marco Ballotta, ex portiere della Lazio. Pensate che nella sfida contro il Real Madrid, giocata l'11 dicembre 2007, aveva ben 43 anni e 253 giorni. Per anni si è pensato che questa che vi sto per raccontare fosse solo una leggenda metropolitana. Dopo anni però è arrivata la conferma dei diretti interessati. Era il 15 febbraio del 2003. Al termine di Manchester United da Arsenal, partita valida per il quarto turno della Coppa Nazionale, Mr. Ferguson ebbe un battibecco con David Beckham. Nella foga Mr. Ferguson diede un calcio a degli scarpini che erano lì per terra che colpirono in faccia lo Spice Boy lacerandogli il sopracciglio sinistro. La sera stessa Beckham chiese alla società di essere venduto e fu così che dopo pochi mesi alla riapertura del mercato passò al Real Madrid. Nelle clausole contrattuali dei giocatori si trova di tutto. Il New York City per un periodo premiava non solo chi segnava, non solo chi faceva l'assist, ma anche chi passava la palla a colui che poi avrebbe fatto l'assist decisivo. In quel periodo nel New York City giocava l'assistman per eccellenza, Andrea Pirlo. Che ve lo dico a fare? Tutti gli passavano la palla. Tipo il raccattapalle, gli avversari, l'arbitro addirittura. A proposito di assist, un altro che li sa fare è sicuramente Lionel Messi. Nella sua carriera ne ha fatti tantissimi e in ogni modo, di testa, di petto, di spalla. Quello più anomalo di tutti è sicuramente il suo duecentesimo assist avvenuto nella partita dalle partite, Real Madrid-Barcellona. Ve lo faccio vedere e vediamo se notate qualcosa di strano. Vi siete accorti di qualcosa? Ebbene sì. In quell'azione Messi perse una scarpa nel contrasto con Marcello e realizzò il suo duecentesimo assist scalzo. Adesso facciamo un piccolo passo indietro di 40 anni. Era il 14 ottobre 1979 e il Perugio ospitava il Milan che era, all'epoca, campione in carica. A pochi minuti dall'inizio della partita, però, il magazziniere del Milan si accorse di aver dimenticato la seconda maglia della squadra a Milanello. E fu così che il Milan scese in campo con una maglia blu, vale a dire la terza maglia del Perugia. Gli interisti si ricorderanno molto bene di Alvaro Recova, detto il Cino, uruguayano dal mancino potentissimo. Se lo ricorda molto bene soprattutto Kordaz, attuale portiere del Crotone, che all'epoca, nel 2003, giocava nell'Inter. Durante un allenamento provò a fermare un tiro, anzi un bolide, di Recova, si ruppe il polso e fu costretto a ben sei mesi di inattività. E chiudiamo con una delle vendette calcistiche più famose di sempre, il norvegese Haaland contro l'irlandese Roy Keane. Nel 1997 i due si incrociarono in campo e Keane si infortunò al legamento crociato anteriore proprio dopo uno scontro con Haaland. Fin qui purtroppo tutto normale, nel senso che sono cose che succedono. Peccato però che mentre Giggs era a terra dolorante, il norvegese, convinto che stesse simulando, andò a urlargli in faccia dicendogli di rialzarsi. Keane ovviamente non stava simulando e fu costretto ad uscire in barella. La vendetta è un piatto che aveva servito freddo e tre anni e mezzo dopo i due si incrociarono nuovamente sul campo. C'era molta tensione nell'aria, sembrava quasi che Keane stesse aspettando il momento giusto per colpire ed infatti fu così. Keane fece un'entrataccia dritta sul ginocchio di Haaland che mise fine alla carriera del norvegese. Bene ragazzi, stranezza nel calcio 6 finisce qui, vi ricordo che stranezza nel calcio 7 uscirà tra due venerdì, vale a dire venerdì 22 febbraio, sempre alle ore 14. Se non avete ancora lasciato like mi raccomando fatelo subito, iscrivetevi se ancora non siete iscritti e soprattutto con un commento suggeritemi qualche curiosità o stranezza legata al mondo del calcio. Per adesso è tutto e alla prossima, ciao!